Ti conosce, ti ascolta, è il tuo medico di famiglia. Si chiude così la nuova campagna social della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Tre video pensati per stimolare il dialogo con il proprio medico di medicina generale e pediatra di libera scelta su tematiche come la vaccinazione anti-covid per i bambini e gli screening di prevenzione per il tumore al seno e il cancro del colon retto. L'emergenza pandemica ha infatti ritardato l'esecuzione di esami diagnostici come mammografie, ricerca del sangue occulto nelle feci e colon scopie. Secondo l'Osservatorio Nazionale, complessivamente nel 2020 sono stati eseguiti circa 2 milioni e mezzo di screening in meno rispetto al 2019. Di conseguenza sono stati 3.300 i carcinomi mammari e 1.300 quelli colon rettali diagnosticati in ritardo. Di qui l'invito a parlarne con il medico di famiglia, il professionista che meglio ci conosce e che rappresenta, così come il pediatra di libera scelta, il primo punto di accesso e l'interfaccia tra i cittadini e il Servizio Sanitario Nazionale. Analogo taglio, empatico, ma supportato dai dati scientifici, per il video dedicato alla vaccinazione anti-covid nei bambini, che riporta i numeri resi noti dall'Istituto Superiore di Sanità e aggiornati al 30 marzo. Sono stati oltre 1,3 milioni i casi covid registrati tra i bambini tra i 5 e gli 11 anni. Vaccinare mio figlio? Il nostro pediatra ha detto sì. Conosce i tuoi figli e il tuo pediatra di libera scelta.